Il bilancio di uno scontro sulla Cilentana ieri pomeriggio è di 5 persone ferite, tra cui una bambina, trasferite in codice rossa all'ospedale Ruggi di Salerno. L'incidente è lo svingolo della Riga Lento, coinvolte due auto, un alfamito e una multipla che si sono scontrate frontalmente. Gli altri feriti sono stati smistati negli ospedali locali. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno ricostruito la dinamica dell'impatto e svolto i rilevi del caso.